Buongiorno e benvenuti, questa è la segna di stampa di oggi martedì 18 ottobre 2016 Benvenuti a tutti i telespettatori sul canale 17 di Fano TV In diretta sono le 7.30 Cominciamo dal Santo di Oggi, la Chiesa ricorda oggi l'Apostolo San Luca San Luca l'autore del Terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli E San Luca, si dice, la tradizione, che morì martire a Patrasso in Grecia Luca era figlio di Pagani, appartiene alla seconda generazione cristiana E compagno e collaboratore di San Paolo, che lo chiama il caro medico E soprattutto l'autore appunto, come dicevo, del Terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli Al suo Vangelo premette due capitoli nei quali racconta la nascita e l'infanzia di Gesù Il sole sorto alle 7.26 e tramonterà questa sera alle 18.20 Il tempo previsto dalla Protezione Civile delle Marche Qui siamo sul sito della Protezione Civile delle Marche Il cielo sarà oggi nuvoloso per nuvole stratificate Con maggiori addensamenti cumuliformi nelle ore centrali della giornata Avremo deboli diffuse piogge localmente anche a carattere di rovescio temporale In particolare nelle zone interne Le temperature minime saranno in aumento e le massime lieve diminuzione Per quanto riguarda la giornata di domani invece, mercoledì 19 ottobre Il cielo sarà nuvoloso per nuvole basse in parziale dissolvimento nel corso della mattinata Con prevalenza rischiarita nel pomeriggio Le temperature minime in diminuzione e le massime in aumento I venti sono deboli disposti dai quadranti meridionali a partire dalla serata Per giovedì 20 ottobre cielo parzialmente nuvoloso Con nuvole orografiche con maggiori addensamenti sui rilievi Deboli piovaschi nelle zone dell'entroterra e occasionali invece altrove In aumento sono le temperature in particolare nei valori massimi I venti sud-occidentali L'approfondimento di una saccatura determinerà un debole peggioramento Per la giornata di venerdì Seguito poi da un miglioramento che durerà un po' più nel tempo Due notizie ieri, due fatti tutti accaduti ad Urbino Il primo di cronaca dove due persone sono morte a causa del monossido di carbonio E l'altra invece che riguarda la sanità Dove c'era attesa per il risultato, l'esito di questa conferenza dei sindaci 59 sindaci di tutta la provincia di Pesurbino Che si sarebbero dovuti mettere d'accordo per individuare il sito sul quale costruire Il luogo dove costruire il nuovo ospedale di Pesurbino per Pesero e Fano Ma in particolare abbiamo capito che insomma un po' per tutta la provincia di Pesurbino Questo non c'è stato, questo accordo lo vedremo tra poco Non c'è stato, partiamo però dalla cronaca Con la fotografia, la fotonotizia sulla prima pagina del resto del carino di oggi A Urbino questa coppia sorpresa nel sonno in una casa del centro storico Lui aveva 47 anni, lei 50, sono stati trovati cadaveri Grave anche un'anziana che abita al piano di sopra Giallo sulla caldaia killer Era a gasolio Che però è stata trovata spenta E questa è la fotografia con l'intervento dei vigili del fuoco Il magistrato, la polizia per i rilievi e quant'altro Sotto la testata, sempre in evidenza L'ospedale, i sindaci disertano il voto Ceriscioli adesso resta con l'algoritmo in mano Parafrasando un po' il detto che resta con il cerino in mano Adesso tocca alla regione, tocca a Ceriscioli in qualche modo trovare la soluzione Fumata nera anche alla riunione di area vasta Ora appunto dovrà decidere Ancona Vediamo le pagine interne Anzi no, vediamo la prima pagina del Corriere Adriatico Sempre l'edizione di Pesaro Anche qui la foto grande è per la palazzina del centro storico di Urbino Dove è stata trovata questa coppia uccisa dal monossido E poi il titolo Coppia uccisa dal gas killer La tragedia nella notte in uno stabile del centro di Urbino I corpi ritrovati in mattinata I due asfissiati dal monossido E si salva un'anziana inquilina che però è grave E adesso si indaga sulle cause Ospedale unico è Bagar L'area vasta non decide Il sindaco di Fano alza i torni al momento di votare La fronda antiriforma fa mancare il numero legale E dunque a Urbino alla conferenza dei sindaci di area vasta C'è stato un nulla di fatto Salta il numero legale I sindaci della provincia sull'opposizione del sindaco Seri Sono usciti dall'aula al momento di votare I correttivi dell'algoritmo Per la localizzazione dell'ospedale unico di Marche Nord Il presidente Gambini è apparso in difficoltà E allora le pagine interne Ecco qua Gas killer, muore una coppia Siamo sempre sul Corriere Adriatico Un'anziana è stata salvata in extremis Via delle Stallacce È nel cuore di Urbino Non lontano dal vecchio ghetto ebraico Scatta l'allerta intorno alle 10 Grazie alla badante dell'anziana Che è preoccupata perché non rispondeva I soccorsi sono arrivati sul posto Pelizzia Vigili del Fuoco, 118, Grabinieri Al lavoro fino a sera Ispezioni fino appunto a tarda sera Per accertare da dove siano fuoriuscite le esalazioni Sgomberate, famiglie e studenti Manutenzioni necessarie Su questo ci si tornerà chiaramente Per quanto riguarda le caldaie Manutenzioni necessarie Ma regna la confusione In provincia oltre il 90% delle caldaie Sono comunque controllate CNA e l'altra associazione La CGI La CGI I tecnici in questione In questi giorni Sono impegnati nelle verifiche stagionali E in tanti però Storcono il naso Quando è ora di pagare Quella che sembra una gabella Una tassa Ma in realtà, vedete A volte può essere Invece Non a volte Sicuramente è importante Che ci sia la manutenzione costante Ogni anno Anche se sembra Questo bollino verde, blu, arancione Tutti i colori Insomma Sembra più una tassa Più una Appunto una gabella da pagare Stuffe e bracere Il nemico nascosto Negli ultimi anni Diversi episodi Di intossicazioni Ma mai così gravi A Cucurano di Fano Ricorda il Corriere Adriatico Luca Senesi Nell'articolo di questa mattina A Cucurano di Fano Un altro episodio Si è verificato nel febbraio del 2015 Dove ben 8 persone Sono state intossicate Dal monossido di carbonio E anche in questo caso La tempestività dell'intervento È stata fondamentale Per salvare tutti loro E poi Ce ne sono ancora altri Come a Sant'Ippolito E in altri luoghi Sparsi nella provincia Di Peso Urbino Sull'ospedale unico Invece L'ospedale unico Fumata nera dei sindaci Ecco l'altra notizia Sempre in primo piano Sul Corriere di oggi Fumata nera Dicevo Privilegia il sito di Fosso 6 ore Tutto torna a Ceriscioli E questa è la fotografia Dei sindaci Riuniti in assemblea Ieri Nella sala Serpieri Di Urbino Proponiamo un piano sanitario alternativo Invece Si allarga la fronda Dei primi cittadini Per salvare tutti i presidi Questa invece È la riunione La conferenza stampa Che vi abbiamo trasmesso ieri sera Dopo il telegiornale Dei sindaci Del patto di piagge Così è stato definito Dopo il nulla di fatto In mattinata A Urbino Dove si è tenuta L'assemblea di area vasta Uno Che doveva decidere Appunto La localizzazione Dell'ospedale Più o meno Tanto per sintetizzare Questa fronda Questi sindaci Dell'entroterra A cui si sono aggiunti Rispetto all'ultima Assemblea Anche due città importanti Come Cartoceto e Mondolfo Adesso chiedono Di Portare avanti Un altro piano sanitario Loro ne hanno uno Un nuovo modello Di piano sanitario regionale E Chiaramente Bisognerà vedere Che tipo di risposta Adesso avranno Questa Proposta Lanciata Questi sindaci Li ricordiamo Sono i primi cittadini Di Piagge Pergola Fossombrone San Lorenzo In campo Sant'Ippolito Monte Copiolo Monte Felcino Monte Labbate Che già avevano Illustrato il loro dissenso All'ospedale unico E avanzato Un sistema policentrico Spinto che prevede Una rete Ospedaliera Che garantisce Tutte la salute Dei loro cittadini Praticamente Immaginate voi Stare a Monte Copiolo Non so se Insomma Molto in là Insomma Se dovesse succedere qualcosa Uno si dovesse sentire male Insomma Sono cittadini preoccupati Andiamo adesso Sull'altra pagina Guardate Alla guida Sbandati con il cellulare Multati Io Quando Leggo di questi Servizi Sui giornali Sono sempre molto Contento Perché Mi ci metto anch'io Naturalmente Tra quelli Purtroppo a volte Ma Guidare con E ce ne sono una marea Di persone che guidano Con Telefoni in mano Intanto Ci accorgiamo tutti quanti Tutti abbiamo un telefono A volte non si riesce a fare a meno Ma poi ci si rende conto Quando magari si inchioda All'ultimo minuto Cosa sto facendo Selfie SMS Telefonate Mail La Polstrada dichiara Guerra Ai conducenti Troppo multitasking Predisposti Nell'ultimo fine settimana Dei servizi Con autocivetta 35 Pizzicati E sanzionati E Questa è una cosa Buona e giusta Il comandante dice Sono in aumento Incidenti Dovuti Soprattutto A distrazione Allora L'invito È di continuare Su questa strada E Sanzionare 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 Non si ferma All'alta dei vigili Invece seguito In seguito E bloccato Un automobilista È stato sorpreso Dal Targa System Le telecamere Senza assicurazione E revisione Sempre Dalla pagina di Pesero Primo piano Andiamo su quella di Fano Del Corriere Adriatico Gli albergatori in prima linea Per aiutare i terremotati Accolti gratis 40 ospiti Di Arquata del Tronto Consegnate anche coperte E pentole Questo è il pranzo Con la delegazione ufficiale Di Arquata del Tronto Pranzo che si è svolto Nella cooperativa Tre punti Di Fano Nuovo controllo Dei servizi Nuovo centro Dei servizi Sociali Per i disabili Ci sono tanti disagi La protesta Di Giommi Dell'associazione Sono tutte sigle Un po' particolari Ve le risparmio Sono dei sogli in lingua Comunque la leggete lì A N M I C Trasporti inadeguati Ascensore Malfunzionante Sotto invece Oggi si apre Il centro Caritas Il centro salute Caritas Un'attività di orientamento E ascolto Struttura allestita Con i fondi Dell'otto per mille Sinergia Con le parrocchie Ancora Dal Corriere La pista La pinetta Di Ponte Metauro Rinata per merito Di due associazioni locali L'area verde Che ha duemila anni Luogo di incontri Socialità E manifestazione Francesco Bertulli Lancia un appello Per valorizzare Una tradizione Di duemila anni Guardate che bellezza Che è questa pinetta Stupenda Di Ponte Metauro Che era già curata Dagli antichi romani Anche oggi Comunque È sempre bello Vedere Passando Andando verso O arrivando a Fano O andando via A Fano Che si trova Nella parte sud Della città Vedere questa pinetta Curata Davvero Che ecco Ci riporta un po' A Roma Sempre dal Ci ricordo un po' Roma Sotto C'è invece La notizia Che ci sono altri lavori Per 250 mila euro Su Rio Crinaccio Un rapporto Un rapporto stretto Tra il comune E il consorzio Di bonifica Per evitare Le esondazioni La pagina Della valle del Cesano Fiera record Turisti anche dagli Stati Uniti Il commento del sindaco Di Pergola Per la manifestazione Del tartufo bianco pregiato Che si è conclusa Domenica Visitatori francesi Olandesi Tedeschi E dal nord Italia Al museo dei bronzi Gli ingressi Sono stati addirittura Scaglionati Proprio perché c'era Tanta gente Premiati i nonni Con più eredi Questa è una bella iniziativa Da San Giorgio Di Pesaro Vince Armando Che ha 18 nipoti San Giorgio festeggia così La ricorrenza All'insegna Dei legami familiari Vedete la signora Giovanni Gabbianelli La signora Giovanna Gabbianelli Che è Questa signora qua Con i suoi 17 nipoti E di fianco Il sindaco da Senigallia Referendum Senza quorum Cosa cambia con le tasse Fusione di Moro d'Alba Con Senigallia Urne aperte Sulla domenica Dalle 7 alle 23 E l'altra pagina Di Senigallia È sulla ZTL Basta La ZTL Non basta I commercianti Il sindaco Dice meglio L'isola pedonale Poi C'è un lutto Si è spento Marco Grilli Un lutto Tra i pescatori Storico marinaio Di Cesano Domani alle 15 I funerali C'è anche la sua fotografia Eccola qua Pubblicata Sul Corriere Adriatico Di questa mattina Andiamo adesso invece Sul resto del Carlino Atmosfera di gelo Tra Ricci E Seri Palla alla regione Oggi parla Ceriscioli Il primo decida Dice Decide il governo Il secondo invece Seri In tre Hanno provato A fregarci Cosa dice Fano? Fano dice Hanno forzato Su muraglia Tentata All'ultimo minuto E rompendo Il patto tacito Cosa dice Pesero? Non a caso Il numero legale È mancato Quando si votava Sull'area pubblica E quando si parla Di area pubblica Si intende Chiaramente Muraglia Dove appunto Il terreno È Dello Stato E quindi Più economicamente Conveniente La proposta Di Tagliolini Inserire il criterio Eccola qui Dell'area pubblica Per favorire Secondo i fanesi Muraglia Così viene a mancare Il numero legale I grillini E lo schiaffo Romina Pergolesi Dei Cinque Stelle Sonoro Ceffone Contro il Ceriscioli Che rappresenta Solo se stesso A discapito Della salute Dei cittadini E allora Andiamo adesso Velocemente Sulla pagina di Fano Del Carlino Il marciapiedi Batte contro il muro Si parla di Viabilità e lavori Intanto slitta L'inaugurazione Dell'interquartieri I residenti Sono perplessi Dicono È pericoloso In mettersi sulla strada I grillini Minacciano Esposti Se il comune Facesse propaganda Nel periodo Del referendum Costituzionale Tra l'altro Non si può fare Quindi Non credo che Siano così ingenui Terme di Carignano L'aste è andata deserta Presentata dalla società Un'istanza di concordato In bianco E ancora Di Sesto Puliti Dieci chilometri Di fossi Su 64 Siamo sempre su Fano Il punto Del presidente Del consorzio Di bonifica Altri interventi Sono in programma Parcheggio per invalidi Ora per avere il permesso Servono 28 euro Poi Si toglie la vita Davanti al cimitero Dove è sepolta la moglie Un dramma della solitudine Per un vedovo Di 84 anni Che si è consumato A San Lorenzo In campo Il segreto Per i cento anni Invece Eccolo qua Ce lo racconta A pagina 21 Del resto del Carlino Questo signore Che si chiama Pietro Paci Nel giorno del suo compleanno Con la figlia Raffaella Qui sotto Aspettate che ve lo cerchio Eccolo qua Qui è con la figlia Qui invece è in bicicletta E sentite cosa dice Il segreto per campare Cent'anni È andare in bicicletta Tutti i giorni Tutte le mattine Pedalate per le strade Dei monti Insomma È una bella ricetta Poi magari Non tutti Probabilmente Riusciranno Ad andare in bicicletta Soprattutto a una certa età Però Prendiamo atto E auguri soprattutto La resegna stampa Finisce qui Questa sera Alle 20.30 C'è il telegiornale Occhio alla notizia Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona giornata Grazie a tutti